Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4 potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre se volete potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games or Cover The Gamer 12 scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games e stende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti archetti su Norco Verde. In questo video volevo informarvi riguardo il nuovo evento che Rockstar Games ha rilasciato per questa settimana su GTA V Online. Prima di iniziare come sempre vi invito tutti quanti a condividere il video. Condividete il video è molto importante per supportare me e il canale. Poi a lasciare un bel pollicione in su bomba mi raccomando spolliciate e seguirmi sui social. Seguitemi su almeno uno dei miei social per essere sempre avvisati appena carico un video sul canale. A differenza invece di YouTube che spesso non invia le notifiche dei video. Potete seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram. E se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme. Trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Questo nuovo evento terminerà la mattina di giovedì prossimo, ovvero giovedì 21 marzo. Giorni in cui inizierà la primavera. Questo nuovo evento è la settimana di Centauri. E iniziando dai bonus ci sono i soldi e gli repi doppi nella modalità competizione scia mortale. Poi ci sono le ricompense doppie su tutte le vendite degli stabilimenti dell'MC. E poi ci sono i soldi e gli repi doppi negli incarichi e sfide del club. Poi tutti i giocatori che effettueranno l'accesso su GTA V online. Entro la fine di questo evento sbloccheranno gratuitamente la maglietta Steel Horse logo nero e la maglietta Western nera. Passando ora agli sconti, c'è lo sconto nel 30% sulla Western Gargoyle, sulla Pegassi Oppressor MK2, sulla Shizu Akuchu Drag, sulla Pegassi Vortex, sulla Pegassi Bati 801. Poi c'è lo sconto nel 40% sulla Nagasaki Shotaro, moto che diventerà disponibile per l'acquisto dopo aver giocato una partita nella modalità competizione scia mortale. Poi c'è lo sconto nel 50% per cui metà prezzo su tutte le clubhouse dell'MC, su ristrutturazioni della clubhouse, sull'officina della clubhouse e su stabilimenti dell'MC. Poi ci sono la gara premium e la prova a tempo, la gara premium è impulso solo per la Rocket Voltic, mentre la prova a tempo è canale di scolo. E niente ragazzi, nella descrizione di questo video lascerò il link dell'articolo di questo evento del sito Rockstar Newswire. Se volete dateci un'occhiata. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orkoverd tutti noi ci vediamo al prossimo video. Bella!